Gabriella Sarracco, presidentessa, trentesima edizione a cui cifra tonda per la festa della musica dell'Ummiere, c'è fresco, c'è musica, ci si diverte, qui va benissimo. Come sempre la festa della musica è un momento importante da tanti punti di vista, è vero che c'è fresco, si mangia bene, ma soprattutto c'è la cultura della musica che Rossano Cardinali, Stefania che mi è qui accanto portano avanti ineseribilmente. Tantissime sono le iniziative che si fanno da Lumiere legate strettamente alla musica e sono per il territorio un vanto, perché è un territorio il nostro ricco di eventi in estate, quelli musicali sono sicuramente più strettamente legati ad Allumiere. La fondazione li segue da anni e continuerà a seguire sempre, in modo sicuramente migliore di quello che può essere oggi. Trent'anni sono importanti e andremo avanti, io spero di festeggiare con Rossano i 50 anni. Quest'anno siamo arrivati ormai alla trentesima edizione della festa, quindi diciamo che abbiamo comunque per tradizione degli appuntamenti che ci teniamo a mantenerli perché hanno sempre funzionato alla grande e chiaramente con qualche altra cosa di innovazione. Apriremo venerdì pomeriggio con la sfida della banda di Monterosi. Per i pomeriggi abbiamo cercato tre cose, anche se sempre a livello bandistico, però un po' alternative. Quindi il venerdì questa banda con le Maggio, Rette e quant'altro che farà grande festa in giro per Allumiere. E poi la sera diamo spazio alla sede di danza. Musica e danza chiaramente vanno strettamente a braccetto. Quest'anno avremo sei scuole presenti che ringrazio fin da ora e quindi diciamo che questo è l'appuntamento della prima serata. Noi su Allumiere come associazione musicale stiamo portando avanti un progetto per le donne in rosa, donne operali d'omore al seno. Quindi venerdì sera all'interno di questa rassegna di danza, siccome abbiamo fatto una canzone dedicata alle donne in rosa, è stata anche colografata, allora ci sarà il coro delle donne in rosa e tutto il gruppo che canteranno la canzone con due ballerine del gruppo che si esibiranno. Noi ci distinguiamo un po' per essere una festa che ha sempre portato sulla tavola dei nostri avventori prodotti a chilometri zero e cucinati in maniera impeccabile dalle mamme dei nostri ragazzi che vengono in banda. Sono prodotti altamente qualificati. Da qualche anno presentiamo anche le bistecche maremmane, quindi noi abbiamo tra le nostre offerte sui tavoli dei prodotti veramente speciali. Abbiamo pensato e ci siamo riusciti, anche se dal punto di vista economico per noi è un impegno molto serio, abbiamo pensato di togliere completamente la plastica dalla nostra festa. Quindi chi viene da noi avrà sul tavolo le posate, le stoviglie, i piatti, i bicchieri completamente compostabili.